Buonasera, questa sera faremo un bel giretto qua nel centro storico di Bucharest, vedremo la chiesa Stramoponeos e altri fantastici posti e dopodiché andremo a mangiare tutti insieme una bella grigliata da Excalibur, è un ristorante medievale e sicuramente spero piacerà a tutti quanti. Ci vediamo dopo, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!